Bella ragazzi, benvenuti quest'oggi su EveryEye, io sono FlashTogether, oggi vi parlerò un po' delle differenze tra old e next gen, poi qualche impressione e speranza su FIFA 15. Di viva la verità, ho fatto un video molto simile sul mio canale, però era più improntato alle impressioni su old gen, no scusate, su next gen e non poi alla fine le differenze, comunque non ho fatto video paragoni come questo. Se volete andate a vederlo sul mio canale, le impressioni a freddo su FIFA 15. Allora, le differenze ci sono ovviamente, sono già scritte, non è che me le invento io o le ho notate io, i portieri, le emozioni ai giocatori, la presentazione della partita, le animazioni della porta, comunque avete visto, anche quelle delle bandiere nel calcio d'angolo e poi alla fine il degrado del terreno. Graficamente è stato mirato molto rispetto a FIFA 14, proprio in quelle cose un po' più esterne, un po' più superflue, però sono quei dettagli che fanno sempre bene al gioco, per esempio il degrado no, perché è importante, però per dire l'animazione della porta o della bandiere nel calcio d'angolo, per esempio. La presentazione dinamica della partita rimane tale, da FIFA 14, credo cambia un po', però io non lo so, perché comunque su FIFA 14 ho giocato prevalentemente su Old Gen, quindi non vi so dire, ditemelo nei commenti. Poi vabbè, le emozioni dei giocatori, quelle sono nuove future, comunque quando per esempio il giocatore si arrabbia con un compagno che invece di passare l'ha tirato, si può intravedere su Next e non su Old. Volevo parlare un po' di più e approfondire un attimo sui portieri, perché è molto importante, molti di voi si sono lamentati, è verissimo, è anche molto comprensibile, perché comunque come ogni anno ci sono quei cambi repentini, siamo stati abituati a una cosa e poi da un gioco all'altro cambia incredibilmente. E può essere il caso dei portieri, perché sono stati migliorati i movimenti e questi ultimi sono stati resi più realistici, se avete notato. Un portiere sembra molto più realistico, sembra davvero una controparte della realtà. A dirvi la verità, come potete aver visto, il portiere non blocca sempre i tiri, per esempio, non troppo forti. Questo dà spunto a vari, vari, barra tantissimi gol di controbattuta, insomma avete capito. E quindi sarà una future che potrà farci, ecco, bestemmiare un po' tutti, imprecare un po' tutti, però comunque è una scelta giusta, perché comunque anche nella realtà i portieri non la bloccano sempre. E quindi non c'è molto da dire. Poi, vabbè, le emozioni di questi ultimi, dei portieri, le dimostrazioni, per esempio, da leader, come quando deve registrare la difesa su un calcio d'angolo, quando, non lo so, fa una bella parata. L'abbiamo visto, l'abbiamo visto tutti, è una bella cosa. Ripeto, sono cose alla fine, queste, le emozioni, eccetera, superflue, però fanno bene, fanno bene al gioco e ci stanno davvero tutte. E poi, vabbè, la difficoltà sono un po' più imbattibili, ecco, questi portieri, i tiri da lontano sono quasi praticamente tutti già parati, voi tirate da 50 metri e li para, incredibile, il portiere. Però da vicino si tentano un po', è una cosa buona, brutta. Vabbè, vedremo, vedremo, ragazzi, come si svilupperà la cosa. Io adesso, a dirvelo adesso, non so, non so molto, cioè, per me è una bella cosa perché hanno reso il tutto più realistico, però vorrei che voi nei commenti mi diciate, mi diciate, mi diciate, già, mi diciate, la vostra. E poi cos'altro? Beh, il degrado del terreno è una future molto importante perché comunque non è possibile che siamo arrivati al 15 per il degrado del terreno. È un'incognita molto, molto importante nel mondo del calcio, nelle partite, peggiora una partita, un terreno non troppo buono, né curato, o magari non lo so, la pioggia. La pioggia l'anno scorso, sì, peggiorava la partita, però alla fine sul campo non lo degradava, non degradava il campo, la pioggia, come nella realtà. Ha raggiunto questa nuova future e devo fare i miei complimenti, anche se è un po' in ritardo, agli esports. Poi, vabbè, le animazioni della porta, ve ne ho già parlato, ok, va bene. Anche se alla fine, nella realtà, non tutte le porte si alzano, però, vabbè, le bandierine, ok, la presentazione dinamica, ok, e le nuove emozioni, appunto, dei giocatori, ok. Ok, cosa dirvi, le mie impressioni su FIFA è che è un gioco molto più fluido, meno macchinoso, ve l'ho già detto mille volte, più fluido, meno macchinoso. I controlli dei vari giocatori sono stati migliorati sensibilmente. Io già lo adoro, ve lo giuro, FIFA 14 non l'ho adorato per niente, anzi, quasi lo odiavo già dalla demo. E questo FIFA 15, invece, no, mi piace, mi piace davvero tantissimo. Poi, le speranze che sia, ovviamente, il più equilibrato possibile per quanto riguarda la modalità Ultimate Team, che non dobbiamo per forza bestemmiare ogni santo presente su questa terra, quando prendiamo un gol, in qualsiasi maniera, e basta. Io voglio solo che sia un po' più equilibrata la modalità Ultimate Team. Poi, per quanto riguarda il gameplay, mi sta benissimo, ditemi la vostra nei commenti. Da Flash è tutto, ciao a tutti.